La fila dei fatti, ricordate le parole che avete detto all'inizio, avete scelto un applauso intanto ai fatti col maestro Fazio, grazie. Ricordiamo le parole che avete scelto voi casualmente all'inizio, sono sei e sono un magnifico, carambola, gargantuesco, ginecologo, convertitore e gioia. Infatti così. Ho un amico siciliano, magnifico, poco strano, poco strano, vuole avere una scienza. Per diventare un trans, ma che non ru, ma che non ru, ma che non ru, ma che non ru, ma che non ru. In una bambola, qui ci vuole una carambola, ma che non ru, ma che non ru, ma che non ru, ma che non ru. Io ho consigliato, consigliato, un dottore, un dottore, un ginecologo, si mancò il convertitore. Adesso non ru, animaresco, con quel solito appetito, appetito da cantuesco. Ora è qui, al circolone, al cabaret, ma che bella situazione. Non è qui, ciccolone, io che canto tonciuori, è siciliano, sciurri, 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 sciurri di tutto lato, la volita.